Per gli amici di Sportvai, Marco Soffietti. Allora, siamo arrivati alla fine dell'Open per gli italiani e tu sei il primo degli azzurri. Innanzitutto, fammi un commento ad oggi. Oggi hai fatto tre birdie, tre boogie e un eagle, però. Sì, oggi è stata una giornata difficile. Lo sapevo che era difficile, però sono partito molto aggressivo, molto determinato e volevo fare bene. Poi mi sono a metà, alla 11 ho sbagliato un po' a corto, poi ho fatto un colpaccio alla 12. Sono andato un po' in affanno, a dire la verità. Poi alla 14 ho pagato con un bel colpo, però non ho mai mollato, perché sapevo che potevo farcela, potevo arrivare nei primi dieci e potevo comunque fare una bella prestazione. Ok, quindi la top ten ti soddisfa? Sì, vedendo quest'ultima giornata, la prima giornata, sono felicissimo della top ten. Quindi ho la possibilità di andare in Irlanda a giocare in una gara da 3 milioni di euro e per me è molto bello. Ok, sei l'onore del golf italiano oggi? Beh, una volta di tanto.